Giro d'Italia, io voglio sentire un applauso ancora più forte a Roma, grazie perché questo è comunque un momento storico. È una bellissima emozione, è sicuramente una competizione estremamente prestigiosa, tra l'altro quest'anno ha attraversato veramente tante tappe, anche non solo qui in Italia, quindi veramente arrivare qui a Roma per noi è stato un onore, insomma, arrivare fino a qui, poterla ospitare. Oggi tutta la città è a guardare queste biciclette che sfrecciano e che ci porteranno sicuramente un bellissimo momento di sport. Corridore preferito, qualcuno per cui ti fa? No, no, poi comunque non si dice. Tra l'altro lasciatemi dire che comunque stiamo non solo portando lo sport a Roma, ma dopo la Formula E continuiamo a portare uno sport ad altissimi livelli e sostenibile, quindi prima le auto elettriche, adesso un mezzo che è completamente a pedali, sfrutta solo veramente la forza umana, inquinamento zero, sport di grande caratura, insomma Roma c'è ed è direi ai primi posti. Sente, col di là dell'emozione, il significato di avere a Roma il Giro, il significato? Ragazzi, il significato è evidente, riuscire a chiudere, a costituire la tappa finale di una gara così prestigiosa per l'Italia, farlo a Roma sfrecciando attraverso monumenti millenari la fatica che viene ripagata da una vista eccezionale è veramente un onore per Roma e credo sia importantissimo essere riusciti a guadagnare questa tappa qui.